Scarpiere Ikea in promozione, la soluzione per trovare l'ordine in casa. Le scarpiere Ikea sono versatili e pratiche, perfette per tenere in ordine scarpe e accessori in ogni angolo della casa. Il modello Trones di Ikea, con design compatto, può essere utilizzato non solo come scarpiera, ma anche come punto d'appoggio in varie stanze. Il modello Bissa di Ikea è l'ideale per piccoli spazi. Il suo design compatto consente di sfruttare al meglio anche gli angoli più stretti. La scarpiera Klebstad di Ikea è un mobile spazioso e multifunzionale, adatto per contenere non solo scarpe, ma anche vari accessori domestici.